Bene benvenuti, finalmente sono riuscito a fare questa registrazione vedremo una gestione della telecamera con Godot in cui si potrà gestire sia il movimento di questa capsula che potrà andare avanti e indietro lungo l'asse Z l'asse Z ricordiamo che è il blu, questo qui mentre muovendo con le frecce si potrà ruotare e andare a vedere delle cose attorno e poi si potrà anche saltare con questo vediamo brevemente un esempio facciamo il play di questa scena, questo mondo che poi vi descriverò un po' in abbondanza quindi esegui scena come vedete la scena è estremamente semplice però vedete che quando sposto il mouse verso sinistra vedete che la capsula gira verso sinistra se lo sposto verso destra la capsula gira verso destra in alto e in basso quindi il mouse, la prima cosa assolutamente è che segue il nostro mouse ma poi se lascio andare il mouse posso usare la freccia in avanti l'altro vedete in basso destra compare il fatto che sto premendo la freccia in avanti vado in avanti vado sempre in avanti lungo la perpendicolare a quello che sto vedendo vedete freccia a sinistra che è l'equivalente del movimento del mouse vado in avanti e vado indietro freccia a destra e in più abbiamo ancora con la barra spazzatrice possiamo fare un saltello quindi abbiamo praticamente le quattro frecce quindi avanti e indietro sinistra e destra poi in più abbiamo messo ancora pagina in su che alza la telecamera e pagina in giù che abbassa praticamente la telecamera quindi la telecamera, non so se state notando, sta osservando la nuca di questa capsula e infatti lo vedremo poi che dovremo andare a modellare poi tutte queste cose quindi questo è il primo step potete vedere poi per uscire da questa situazione ah poi peraltro c'è la gravità quindi si cade se vado oltre il bordo cado giù insomma quindi finisce quindi questo è cercato di metterlo in una modalità insomma comprensibile quindi se andiamo andiamo quindi nella struttura del progetto vedremo la struttura del progetto vedremo lo script conseguente che visto che molti di voi hanno difficoltà non sono banali gli script ma in qualche modo ve lo farò vedere e vi spiegherò come interagire ma il mondo qui ho fatto soltanto due scene una scena che ho chiamato mondo una scena che ho chiamato player e c'è un solo script che è player.gd allora il mondo come vedete è costituito da una machine stance che è il piano dove lavoriamo che come vedete c'è uno static body perché non vogliamo ci vogliamo che la gravità ci tenga attaccati a questo piano e quindi gli abbiamo fatto uno static body con una collision shape poi vediamo nella terza parte del video oppure in un video separato la costruzione da zero di tutti questi elementi così magari la capite bene e poi oltre al piano che è questa mesh abbiamo messo un player e il player vedete che è composto da una cosa ha una struttura complessa andiamo a vedere la scena del player la scene player andiamo nella scene vedete che il player è composto da questa capsula che ci rappresenterà il nostro player e poi abbiamo altri elementi che qui vediamo quindi abbiamo la capsula che è la mesh instance che è questa abbiamo poi la collision shape che vedete che è costruito vedete che è molto semplice è costruito come una capsula anche lei che avvolge la capsula mesh poi in più abbiamo la camera che però è figlia della testa vedete che qui ho messo un nodo un nodo che non si vede ma che è fissato sulla testa quindi quello che succede qui è che essendo la camera figlia della testa se la testa si muove quindi se io muovo questa testa qua vedete che ci va dietro anche la camera visto che la testa ctrl z è a sua volta figlia del player se il player si muove gli verrà dietro anche la camera ctrl z quindi anche qui se si gira se qui gira la camera quindi quello che girerà sostanzialmente basta solo girare la testa quindi se giro la testa che è figlia della cosa quindi girando questa testa qua vedete che gli si gira dietro anche la camera questo diciamo è il trucco quindi ricordatevi che la composizione è questo è uno dei modi più semplici per ottenere il movimento ce ne sono infinite altri comunque mettiamo la camera figlia di un punto che osserva che potrebbe essere la testa del nostro avatar e il teoria se noi non vogliamo vedere la mesh qui davanti possiamo anche rimuovere la visibilità e quindi se noi andiamo nel mondo ctrl s se andiamo nel mondo e rifacciamo il play con questa modalità vedete che ci muoviamo senza ci muoviamo in questo ecco siamo andati oltre perché non capiamo ben dove siamo però il concetto è che il concetto è che ci muoviamo vedete che andiamo avanti e ci muoviamo in mezzo a quello chiaramente adesso se volessimo conservare questa situazione dovremmo avvicinare sarebbe sufficiente in realtà mettere quindi dove abbiamo? player mettiamo la mesh instance se volessimo conservare questa cosa potremmo semplicemente togliere la capsula e avvicinare avvicinare insomma il player alla camera altrimenti poi non si capisce perché stiamo cadendo perché è come se fossimo più lunghi di quello che siamo ok quindi abbiamo visto la struttura quindi abbiamo visto che il player è costituito da questi oggetti quindi un kinetic come dice script kinematic body lo vedete qua vedete che abbiamo la sua collision shape abbiamo la mesh instance la testa e la camera mentre invece il mondo è molto più semplice composto da queste cose quindi l'unico script che abbiamo adesso a disposizione su cui adesso andremo a lavorarci un pochino è quello del player allora il player lo vediamo questo script qua un solo script player gd doppio clic e vedete che abbiamo finalmente questo script allora questo script ho cercato di farlo il più semplice che mi è venuto sempre usando come base il gatto ho tradotto un pochino in italiano e vediamo un attimo come funziona quindi questo script cosa fa sente due cose quindi sente se sono premuti dei tasti mentre sta elaborando la fisica e c'è anche un metodo quindi vedete che c'è un physics process che è questo in cui sente i tasti premuti e c'è un input che invece serve per sentire il mouse che si muove quindi abbiamo due possibilità di elaborazione vediamo la cosa più semplice che è la cosa che abbiamo già visto in realtà quindi la sentire quali tasti fanno muovere il nostro kinematic body allora abbiamo già visto questa cosa quindi abbiamo visto che quando premiamo la freccia in giù vogliamo incrementare la z cioè vogliamo muoverci lungo la z quindi mettiamo un 1 quindi andiamo cioè qui cerchiamo la direzione lungo l'asse z quindi queste due istruzioni semplicemente freccia in giù o freccia in su permettono di aggiungere sottrarre un'unità alla z la z ricordiamolo che nel mondo se lo vediamo la z sarebbe questa questa direzione qua ora se per caso quando fate questi movimenti vedete che il freccia in alto vi sembra che dovesse andare in avanti invece va indietro può darsi incisione le inversioni delle direzioni quindi eventualmente rovesciate il più e il meno quindi se per caso vedete una cosa diversa da quello che vi aspettate invece che sommare 1 qui sottraete con meno uguale 1 e viceversa qua meno uguale 1 mi mettete più uguale 1 l'altra cosa quindi questo in realtà è il vero e proprio movimento che facciamo fare alla nostra capsula quindi praticamente gli diciamo muoviti e qui ci prendiamo un movec che è un vettore di movimento che ci dice in che direzione vorremmo muoverci dopodiché invece vediamo se vogliamo girare la camera quindi la capsula che è questa quindi questa qua dice se premiamo il tasto verso destra la freccia verso destra chiamiamo ruota camera ora ruota camera è una funzione magica diciamo che troviamo qua che va a dirgli alla camera di ruotare verso una certa direzione quindi gli si dà quanto ruotare in orizzontale e quanto ruotare in verticale qui credo che suppongo che h positivo vuol dire che stiamo andando verso destra h negativo verso sinistra orizzontalmente v positivo va in alto e v negativo verso il basso e qui lui cosa prende prende semplicemente la prende la camera no e gli dice alla camera quindi la camera vedete che è figlia del player quindi andiamo a vederla questa qui è la questa è la cam la cam a inizio dello script l'ho messo uguale a dollaro testa slash camera quindi sono qui no? il player io sono un kinematic body di questo kinematic body vado prendermi la testa che è quella lì e di questa testa vado prendermi la camera perché voglio muovermi la camera quindi la ruota camera che questa prende la camera e questa camera gli dice di spostarsi la sua di spostarsi la sua rotazione orizzontale in modo tale da avere questo questa cosa ora il ok possibile che questi dati li abbia rovesciati ma adesso poi vediamo meglio quella cosa cioè sostanzialmente la x dovrebbe muovere orizzontalmente e la y dovrebbe muoversi verticalmente quindi mi sa che qui dobbiamo invertire quindi questo qua è verticale e questo è orizzontale adesso orizzontale ok allora quindi ruota camera fa questo mestiere di ruotare la camera e abbiamo visto che la rotazione della camera l'otteniamo anche qua no? cioè quindi ruota camera quindi we right cosa fa? muove a destra lungo l'orizzontale e we left muove a sinistra lungo la posizione orizzontale mentre we page up e we page down muovono sempre la telecamera in rotazione quindi lungo l'asse y ok quindi questo per quanto riguarda la rotazione della telecamera e quindi mi ha visto che più o meno funziona e poi c'è un pezzo che adesso andiamo a vedere un po' meglio che gestisce il salto dopodiché c'è un po' di magia queste in cui in pratica fino a qua in realtà non ha mosso niente ha solo deciso la direzione la direzione l'ha messa in move back dopodiché qua gestisce il salto e vede se per caso dice il salto funziona solo se sono attaccato cioè se sono per terra se sono in aria non posso saltare ulteriormente quindi grounded che vuol dire a terra quindi possiamo anche cambiare questo a terra quindi a terra e poi mettiamo grounded questo quindi perché noi vogliamo fare il il salto solo se siamo a terra perché non vogliamo saltare saltare quando siamo già in aria cioè non è possibile ok quindi prendiamo il punto del salto vediamo che se sono a terra effettivamente innanzitutto l'altezza che inizialmente era posizionata un certo valore zero se l'altezza viene diminuita ma se però contemporaneamente proviamo il salto viene aumentata quindi noi andiamo giù per effetto della gravità ma se saltiamo aggiungiamo un certo valore inoltre visto che ogni volta la gravità diminuisce la caduta quindi mettiamo una condizione diciamo di velocità questo qui è un vettore di velocità all'altezza e gli diciamo infatti in origine si chiama y velo quindi sarebbe velocità lungo la y e questo descrive quanto al massimo si può andare veloce cadendo si mette un limite quindi se sono più piccole quindi sono molto più negativo di max caduta allora pongo un vincolo in realtà questo non è necessariamente necessario così come anche questo dice che se sono a terra allora l'altezza la pone a un valore insomma cioè se sono già più o meno a zero se sono sul ground eccetera non va più basso poi questo più o meno funziona vediamo un attimo se continua a funzionare quindi ah no però ricordiamoci di lanciare il mondo questo facciamo il mondo e vedete che adesso freccia destra in realtà ha invertito il movimento quindi abbiamo commesso un piccolo errore ah sì perché la sensibilità orizzontale verticale aveva cambiato di dunque verticale così credo che fosse perché va così adesso vi spiego il significato di queste cose qua lo rifacciamo un secondo destra sinistra avanti e indietro salto ok sembra che si comporti come vogliamo ecco il significato di tutte quelle cose maiuscole è dovuto al fatto che io volendo potrei controllare diciamo il comportamento di tutto questo script dipende dai valori della gravità esempio qui ho messo una gravità a 0,98 che ricorda la gravità vera e propria il valore del salto è il valore massimo della caduta la velocità con cui ci muoviamo che per esempio è 3 e la sensibilità con cui sente il mouse quindi se noi pensiamo che ad esempio la sensibilità cioè quando noi ci muoviamo vediamo che se io giro il mouse mi sembra che vada troppo veloce allora cosa faccio la sensibilità orizzontale la posso mettere a più bassa ad esempio 0,1 e a questo punto se rilancio la mia la mia allora la sensibilità praticamente dovrebbe migliorare cioè dovrebbe essere molto più piccola cioè se qui la sensibilità gli metto un valore ridicolmente basso ad esempio 0,02 verticale orizzontale e rilancio la scena vedete che si muove pochissimo quando si dovrebbe muovere abbastanza poco quando sposto a sinistra a destra in realtà c'è ancora un piccolo una piccola cosa da vedere in questi valori ma comunque diciamo che il valore con cui avevo iniziato 0,2 meno 0,2 dovrebbero essere quasi soddisfacenti si sono quelli vedete ecco se vedete che quando vado in alto in basso adesso muovendo in alto lui va in alto effettivamente ma se volete che inverta questa cosa dobbiamo agire sul segno quindi mettergli per esempio un'all'orizzontale se ne mettiamo verticale gli cambiamo segno allora secondo me mi sa che l'ora era giusto la versione precedente ok scusate ho rifatto un attimo mente locale perché come vedete c'è da confondersi sui significati delle x e delle y torniamo al nostro scena vedete questa e guardiamo un po' come è fatta la nostra camera la camera vedete che questa è la nostra camera vedete che ha i vari assi quindi c'è un asse x e c'è un asse y allora quello che è interessante è che ruotando attorno all'asse x questo 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 rosso quindi ruotando attorno a questo in realtà la telecamera si alza e si abbassa quindi otteniamo quell'effetto che è associato al page up o page down oppure anche al movimento alto in basso del mouse mentre invece la rotazione orizzontale è descritta da questo verde che sarebbe la y ecco allora che capiamo bene il significato di questo quindi se noi vogliamo muoversi orizzontalmente il movimento orizzontale deve avvenire lungo la y che è l'asse y che è quello che abbiamo detto che lo faceva muovere orizzontalmente e gli mettiamo meno uguale adesso vediamo in modo tale da poter averlo positivi questi valori quindi se noi cominciamo a mettere 0 e 0 in questi due valori allora il movimento orizzontale che è questo è che non viene colto perché quando si chiama in pratica cosa succede quando si muove il mouse si riceve questo evento e questo evento ci dice se stiamo muovendoci a sinistra o a destra nel senso che la x del mouse diciamo ecco perché l'ho cambiato h e v perché se no c'era da confondersi quindi la x del mouse è sinistra a destra la y del mouse è in alto in basso e quindi l'ho chiamato h la parte x e v la parte y in modo tale in modo tale che quando gli diciamo di muovere la camera vedete che diciamo camera h meno v qui anche l'aggiustamento del segno serve per eventualmente invertire o meno la direzione e in più un'altra cosa che vi ho messo è questa cioè che se muovo la rotellina in alto vi dico di cambiare la camera e di farla andare verso la z quindi incrementare la z infatti se voi vedete la camera la sua z che è questa quindi la sua z che è questa incrementa e quindi incrementarla in più la fa arretrare e diminuirla la fa dall'altra parte e quindi osservando questa scena vuol dire che se mi avvicino con la parte a dovrei diminuire quindi in teoria dovrei se wheel up dovrei fare un meno e qui se faccio la rotellina giù faccio un più l'effetto finale di questo vorremmo vederlo questo non l'abbiamo visto prima ma se funzionasse correttamente andiamo sulla nostra scena mondo ecco vedete che con la rotellina davanti io mi muovo lungo l'asse lungo l'asse z della camera vado indietro mouse wheel down e mi allontano invece vedete che adesso qui non sente più il mouse ma la freccina e neanche le freccine perché? perché ho messo qui i parametri a zero quindi se voglio che reagisca alle nostre sensibilità verticale dovrei qui metterci un valore 0,2 e provo a rilanciare la scena verticale allora vedete che qui reagisce soltanto andando in su e in giù ora quello che succede vedete che se vado in su la scena ruota in su che non è forse quello che voglio quindi metto meno ecco sensibilità verticale meno 0,2 oppure anche perché visto che ho visto che c'era un meno che non mi convinceva prima che era questo ecco gli mettiamo HV quindi ruotiamo la camera HV e secondo me adesso potrebbe funzionare vediamo ok allora vedete ecco così vado in alto e vado in basso se non mi convince questo modo cioè se io quando vado in alto vorrei vedere la scena che vado in basso posso semplicemente ecco controllarlo col segno qua meno 0,2 e così riottenere diciamo il fatto che andando in alto col mouse si sposta tutta la scena in alto ad alcuni gli piace di più così analogamente sensibilità orizzontale adesso è 0 ma se gli metto 0,2 e lancio tutta questa questa cosa vedete che vado a destra o a sinistra e quindi mi sta rispondendo quindi questa cosa qua permette di controllare la sensibilità al mouse la velocità mi consente di controllare la velocità con cui si muove se invece di 3 gli metto 1 si muoverà molto di meno quindi faccio il play e se faccio w vedete che sembra no aspetta la freccia in giù vedete che si muove così no aspetta nel momento sinistra e destra è uguale alla sensibilità invece questo avanti e indietro è la velocità con cui mi muovo se io gli metto un valore di velocità per esempio 5 e rilancio la scena questo diventa dovrebbe diventare molto vedete che si muove molto velocemente quindi questo valore anche facciamo 3 che era quello con cui ero partito il salto 20 avete visto che salta molto se gli mettessi 50 salterei ancora di più quindi proviamo vedete che sale parecchio e poi ci impiega tanto a tornare e la gravità se invece 0,98 qui torniamo 20 che abbiamo visto che era interessante se invece di 0,98 lo mettiamo 10 volte inferiore vuol dire che quando saltiamo ci impieghiamo tanto a scendere perché scende molto molto più lentamente infatti adesso ecco e adesso è arrivata molto bassa quindi così si possono controllare molti parametri del nostro script una cosa interessante è che uno volendo potrebbe chiederci ma perché devo entrare nello script per cambiare i caratteri ecco le costanti che ci interessano allora vedete che ho usato questo export questi export permettono di avere quando siete sul player quindi vado sul player qua permettono di far vedere le script variables qui sulla destra quindi se io voglio modificare questi valori è sufficiente che gli cambio da qua quindi qui se voglio per dire la velocità la voglio passare da 3 a 5 cambio questo valore e poi quindi questo qui è già effetto subito senza dover andare neanche nello script analogamente se il salto voglio che invece che 20 sia 5 molto basso rilanciando la scena vedete che il salto è abbastanza basso e l'altra cosa notevole vedete che visto che lui usa i valori dello script come li ho messi qui se io gli metto i valori di default ecco questi torna a essere i valori di default che ci sono nello script quindi riassumendo se volete mettere un oggetto di questo genere da voi dovreste costruirla e questo secondo me in effetti è un buon esercizio costruirvi oltre alla scena che avete inserito come vi ho visto prima ma costruirvi una scena player costruendola da zero come l'abbiamo costruito adesso quindi con tutti quei parametri cioè con tutti questi oggettini chiaramente al posto della capsula ci metterete il vostro personaggio il gattino però diciamo che la capsula va benissimo quindi io vi lascerò questo progetto che potrete usare copiandolo da voi quindi se vuoi vedremo magari in un altro video aggiuntivo come farlo allora nel prossimo video che farò vi farò vedere invece proprio come costruire appunto una cosa del genere partendo da zero quindi costruendo insomma una struttura e costruendolo proprio da zero tutto senza 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 usare niente ho visto che dal punto di vista didattico anche se un pochino complesso comunque aiuta ci vediamo al prossimo video